Gravissimo lutto nel mondo della politica italiana. È morto il grande ciriaco De Mitta. Era nato a Nusco il 2 febbraio del 28, si è spento il 26 maggio 2022 ad Averlino in Campania. Era un famosissimo politico italiano, presidente del Consiglio dall'88 all'89. Fu più volte ministro ma anche sindaco di Nusco a partire dal 26 maggio dell'anno 2014. Vi ricordo che Nusco è un piccolo comune ubicato in provincia di Averlino in Campania. Ebbe un potere politico negli anni 80, fu presidente del Consiglio dei Ministri in un governo creato da un pentapartito, cioè da 5 partiti politici, che cadde poi l'improvviso nell'89. Un personaggio duttile che dal punto di vista politico ha saputo ben interpretare tutti quelli che sono i canoni più tipici della politica contemporanea, ma anche della politica antiquata, passata, obsoleta, quella del passato. Ricordiamo anche la relativa inchiesta, mani sul terremoto, poi la situazione di Tangentopoli, il caso Parma, l'appartamento di Roma, insomma tante cose di un uomo, di un personaggio importante. Ricordo a tutti che è stato anche il cavaliere di gran coce dell'Ordine di Merito della Repubblica Italiana, da parte di iniziativa del Presidente della Repubblica, fu insegnato di quale di tale onore il primo febbraio dell'anno 2018, un po' di anni fa di tempo. Purtroppo se ne va, una sconvolta, o meglio uno sconvolgimento nell'ambito della politica per un uomo importante come lui. Tutto questo dunque è quanto, questo video non vuole, ripeto, non vuole levare la privacy di Ciriaco De Mita, né della famiglia De Mita, ma solo informare eventuali persone e esseri umani. Detto questo, a voi tutti una buona giornata, un salutone caro, Ciriaco De Mita, ripose in pace, Amen.